Lunedì 15 del 7 dell'85 alle ore 19.30 si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Comunale Fonzaso. Il primo punto riguardava la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Il punto è stato approvato. Il secondo punto riguardava l'assunzione di un mutuo di lire 375 milioni con gli istituti di previdenza per la costruzione di un nuovo acquedotto in località Fontanaz. Anche qui il Consiglio approva il punto. Ci torneremo poi però su questo punto mostrandovi un filmato riguardante la località di Tai Fontanaz presso i forti e comunque vicino alla località Sant'Antonio. Il terzo punto riguardava la nomina del direttore dei lavori per la costruzione dell'acquedotto in Fontanaz. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.